buongiorno ragazzi bentornati sul mio canale in realtà appena finito di registrare il video che ti ho messo mercoledì scorso però da questo vento incomincio un altro weekly vlog e questa settimana sarà non piena non pienissima di più anche perché da oggi partono tutte le organizzazioni per l'evento di our feet hub che si terrà poi domenica è il compleanno di lara daniele torna dall'america e c'è da preparare una nuova programmazione per ottobre e ci sono anche un bel po di cose quindi io non mi dovrei iniziare questa settimana sono carica nonostante sia lunedì e quindi io direi di cominciare subito questa nuova settimana insieme allora tu duriste la giornata e da registrare fatto quindi adesso incomincio la parte dei giri oggi niente allenamento perché ieri ho finito di registrare la programmazione di our feet hub e sono un po alle cozze quindi oggi insomma mi riposo e niente dobbiamo portare questi scatoloni dagli street gorilla e dagli street gorilla devo prendere una roba per l'evento facciamo tipo uno scambio poi devo portare a far stampare le altre magliette per l'evento perché non le ho portate tutte non so per quale motivo tutto con lara perché stare iniziando un attimo a guidare quindi mi porterà lei in macchina mi fido c'è da fidarsi no come no è brava invece missione compiuta siamo arrivate anche il pareccheggio la bravissima volevo riprenderti mentre andavamo ma non volevo ammettere in soggettione però non ho dovuto dirti niente quasi arrivate la destinazione l'abbiamo capito dall'infinità di prato in un'altra che c'è ciao non so ti sto salutando lo stesso da questo momento incomincia anche quel periodo dell'anno in cui si va in palestra così con sotto l'outfit tutto corto perché io non sono ancora pronta a andarmi con i leggings ma sopra pantalone della tuta super pesante e dato che andiamo sempre in bicicletta spero di non beccarmi la pioggia dato che oggi è molto probabile che succeda oggi ammetto che era uno di quei giorni in cui avrei fatto qualsiasi cosa potremmo andare in palestra sì raga succedono anche a me giornate in cui davvero non ho voglia però per fortuna sono andata con lara sono andati appuntamento quindi non potevo assolutamente saltare io ho fatto un allenamento gambe glutei di avarfi tab anche perché fortunatamente appena sono entrata poi mi è venuta voglia quindi alla fine ho spinto mentre invece mia sorella ha fatto un total body avarfi tab è la mia piattaforma di allenamento in cui trovate tantissimi workout da fare a casa che da fare in palestra e vi lascio anche qua sotto la possibilità di provare gratis un workout gambe glutei estratto dalla programmazione ed eccoci qua che continuiamo il nostro workout e la mia espressione dice tutto anche perché cosa ho detto che speravo non piovesse e invece ovviamente stava diluviando e noi eravamo in bicicletta e quindi siamo tornate così era l'unica ragazzi oggi avevo dei capelli bellissimi tanto nell'outfit sta bene sì vabbè esatto nero riprende nero avevo dei capelli bellissimi e mi dispiaceva sinceramente a rovinare quindi così è stata lenta e così il cappuccio ce l'aveva questo invece è il mio pranzettino c'è il mio post workout molto semplice come vedete con la mia mancabile stracciatella e poi dato che era davvero un pomeriggio pesante passato completamente al computer io l'arrabia ha deciso di fare le crepe alla nutella ed erano davvero buonissime mentre invece questa è la mia cena finalmente è arrivata la stagione della zucca io la amo me la vedete sempre nei miei vlog restaurino d'obbligo per quanto riguarda la faccia ma non per quanto riguarda i capelli in realtà perché stamattina raga diciamocelo avevo una faccia da paura questo perché lo ammetto io lo sapete che sono molto sincera fa con voi su youtube mi piace proprio fare vedere tutto non è un periodo facile ci sono tante novità tanti cambiamenti che devo fare soprattutto a livello di piattaforma che sono felicissima perché sta crescendo sempre di più e diciamo che anche organizzare un evento per 50 persone e anche di più in realtà non è facile soprattutto per come ce l'ho in mente io quando dico che davvero è tre mesi che ci lavoro praticamente costantemente è vero perché anche a milano trovare una location ovvero una sala corsi che posso ospitare costante persone non è facile pensavo di sì e invece sta le corsi per 50 persone praticamente non ce ne sono però l'ho trovata infatti adesso andremo a fare insieme il sovraluogo io in realtà l'ho già vista però devo un attimo vedere come organizzare un po' di cose tipo l'angolo gadget l'angolo banner per fare le foto dove fare il workout e poi finalmente vado anche dal parrucchiere e ragazzi anche nel video prima si vede che i miei capelli sono paglia ve l'ho già fatti vedere però ooooh eccoli qua corti sembrava una una spazzolina ragazzi c'era bisogno c'era bisogno non avevo scuse li ho anche un po' sfrangiati davanti dato che erano molto rovinati i miei capelli hanno spinto adesso continuiamo un pochettino il giro delle commissioni provo ad andare in bicocca perché ho bisogno di ESN chi ha fatto l'eratomo sicuramente sa di cosa sto parlando e niente mi servono perché sto mettendo un pochettino le basi di uno sviluppo di una cosa che c'è già e quindi loro mi servono quindi andiamo a vedere che ci sono raga bello tornare in uni forse dico così perché non ci vado ci ho finito forse per questo però bello e non voglio cantare vittoria ma contro ogni previsione forse questa cosa qua è andata in porto che bello questa giornata era iniziata davvero malissimo invece dalle cose stanno girando nel senso giusto meno male buongiorno anche se in realtà è mezzogiorno perché questa mattinata l'ho passata qui davanti al mio computer e l'ho spento proprio in questo momento quando vedete dei salti temporali del genere vuol dire che non è successo nulla di emozionante se non io qua così disperata davanti al pc però adesso possiamo finalmente uscire di casa perché diciamo che oggi è un po' una giornata particolare cioè oggi e domani perché stasera, cioè stanotte a mezzanotte è il compleanno di Lara e quindi prima di tutto è arrivato in tempo proprio in questo nanosecondo il regalo che ho deciso di farle che è un siero diciamo per le imperfezioni quindi adesso ho un pranzo di lavoro se così possiamo dire in realtà è con una mia amica con cui ho lavorato in realtà anni e anni fa a scuola zoo pensate però adesso dobbiamo sempre parlare per quanto riguarda il progetto che avevo già accennato ieri io potrei fare benissimo la trasmissione sepolta in casa perché ragazzi sto piena di scatoloni ma sono tutte le cose dell'evento dentro tutte le cose di My Protein vedo l'ora che sia stasera andrò a prendere anche i pasticcini ho il compito importantissimo di sceglierli io presi! mi piace un sacco comprare i dolci 20 pasticcini ho preso un mix di tutto poi stasera rivedete a questo punto torno a casa lavoro ancora un pochettino al pc e poi inizio a prepararmi devo far bella raga che qua la situazione è male male ed eccoci qua pronte credo che non ci abbiate mai visto così brava Lara però abbassati questa è Lara con anche una gonna lo struzzo non è vero non è vero adesso vi faccio vedere perché ha fatto una gonna da zero dato che le piume quest'anno vanno però lei ti perdo un po' io ho la camera in base però l'ha fatta lei oltretutto lei fa un po' di cosine così cuce e anche il suo brand di costumi all'uncinetto che vi lascio qua questi qua sono alcuni costumi che ha fatto questa è stata insomma in questi anni li faccio personalizzati quindi come volete non basatevi su questi come volete voi io li faccio sì esatto basta che voi li scrivete come lo volete quindi direi bene dopo vi facciamo vedere bene non mi dite che è brutta mi piace ma no è benissima non mi dite che è brutta dove l'abbiamo lasciato è tornato Daniele è finalmente un caffè giusto esatto quello che si fa massimo della lunghezza così deve essere ti è mancato in America mamma mia questa volta porto magliette di caffè una moca in tasca e si vede che sei tornato anche da queste cose e dopo un altro pomeriggio al computer adesso io Lara e Daniele andiamo al sushi nel sushi dell'altro vlog oltretutto perché ci è piaciuto un sacco quindi ritorniamo sempre per il compleanno di Lara questo compleanno durerà una settimana insomma questi festeggiamenti e ovviamente è il momento in cui abbiamo deciso di uscire se è messo a diluviare raga non ci credo domani è il grande giorno il giorno prima dell'evento diciamo che è sempre un po' un misto di emozioni un po' di pauretta perché alla fine è la prima volta che faccio un evento con 50 persone non vedo l'ora di passare una giornata intera con tutte le ragazze che comunque sono iscritte alla Warfy Tab mi seguono da tanto tempo mesi, anni e oltretutto ho visto anche che domani c'è il sole meno male perché oggi è un'altra giornata da schifo infatti stamattina mi sono alzata ho visto che sono al diluvio universale ho detto no speriamo però domani dovrebbe essere bello quindi come sapete il giorno prima dell'evento devo scrivere la scheda organizzare le ultime cose devo addirittura ancora scegliere la playlist perché questa volta ci sarà la musica a palla che sembrerà di essere in discoteca ma c'è da preparare tutti i pacchettini e tutti i gadget per le iscritte allora ogni ragazza avrà uno shakerino di MyProtein poi una barretta che sarà o le crispy questa è la mia droga sono le barrette migliori del mondo secondo me e invece chi preferisce l'opzione vegana avrà i brownie che sono questi qua ho scelto per le mie ragazze ovviamente i miei prodotti preferiti di MyProtein poi avranno anche delle proteine al gusto cioccolato e burro d'arachidi ci sarà anche ovviamente di questo l'opzione vegana e poi ci saranno anche dei gadget speciali adesso lo chiamo anche Lara perché ha detto che veniva ad aiutarmi e speriamo che abbia accattato la mia richiesta di aiuto ecco raga finalmente questo giorno è arrivato eccomi qui stiamo iniziando ad allestire un pochettino tutto così prepariamo mettiamo a posto io questa notte non ho chiuso occhio cioè l'emozione è grandissima e quindi ci vediamo tra poco nel frattempo abbiamo qualche aiutante pure che qua ce n'è di cose da mettere a posto ed ecco qua dopo un'ora e mezza di preparazione finalmente è tutto pronto per le ragazze quindi abbiamo incominciato facendo tantissime foto e poi finalmente è arrivato il momento del nostro workout gambe glutei è stato un allenamento di 40 minuti ma devo dire che ho scelto degli esercizi belli tosti poi ci sono sfidati in delle challenge addome e io stupita come fate a rimanere 5 minuti in plank e si vincevano sempre dei premi di MyProtein finalmente la fatica è finita e abbiamo mangiato dei gelati che Sbam Gelati ha fatto personalizzati in occasione del nostro evento e poi siamo andati a mangiare la nostra amata acai bowl ma com'è questa acai bowl ragazzi sono stra felice da Barcellona Milano un attimo prossima volta andiamo a mangiare la Barcellona però allora non aspettato ne ho approfittato neanch'io non l'ho aspettata e anche questa settimana si conclude direi nel migliore dei modi mamma mia che giornata e che settimana oggi è stato completamente fuori di testa cioè ancora devo far sbollire un attimo la tensione infatti mi vedete ancora così super esaltata non ho neanche parole per descrivere quello che è stato oggi quello che ho provato quello che in realtà ho provato io e tutte le ragazze che sono venute è davvero bello vedere come possa unire una passione soprattutto non è facile trovare persone che hanno i tuoi stessi interessi soprattutto quando si tratta comunque di allenamento e fitness e vedere che così tante ragazze la pensano come te su molte cose hanno lo stesso modo di viversi comunque positivamente e con tranquillità il fitness è una cosa bellissima è impagabile poi ci sono state tutte le cose che amo e che mi piace condividere quindi il gelato l'açai bowl tutte le robe di my protein io davvero non ho parole quindi è stata davvero una giornata speciale che non vedo di rivivere e neanche tra così tanto nel frattempo non ho più la voce ho un maledicolo devastante ma questa giornata me la porterò nel cuore per molto tempo quindi questo evento anche una settimana si conclude qua e quindi anche questo video io spero che tutto ciò vi sia piaciuto come al solito quindi lasciate un bel like iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao